Ciao Corolla Universitaria, ciao Coristi e ciao Corsisti. Questo video è una sorta di riassunto della nostra terza prova che abbiamo fatto in Zoom che realizzo perché purtroppo l'audio è stato veramente un po' infelice. E come già detto durante le prove cercherò di pensare a questo spazio, a questo momento che stiamo vivendo da remoto, come un contributo per la concertazione, spunti per la concertazione dei brani che sono nel nostro repertorio. Mi sembra una buona occasione perché con quella che per me sarà una sintesi, ripeto, di quello che abbiamo fatto durante quello Zoom e quella diretta, mi piacerebbe darvi un po' di idee, di contributi, di suggestioni intorno ai brani che cantiamo. Perché l'idea è sempre quella, riuscire a non pensare semplicemente alla note, alle parole e alla musica in generale, ma a tutto il mondo che sta intorno a quella composizione perché secondo me il corista deve avere una serie di immagini in più, di suggestioni in più per arricchire anche emotivamente, oltre che culturalmente, la sua esecuzione. Allora, la nostra avventura di questa video-lezione, di questo tutorial, è intorno alla Vege generosa di Olaghielo. E l'articolo, come è già stata la lezione in diretta su Zoom, in tre momenti. Prima di tutto cerchiamo di fare due considerazioni su Olaghielo, sul suo stile, la sua attività di compositore, un compositore giovane, da poco, è nato tra il 74 e il 75, adesso non rammento, quindi è nel pieno della sua attività compositiva. Poi, siccome ha scelto un testo utilizzato da Hildegarda von Bingen, andiamo a capire qual è la figura di questa importante dottore della Chiesa, Hildegarda von Bingen, e a sviscerare un pochino il termine di Viriditas, che è cruciale per la sua dottrina e che, secondo me, ci dà molti spunti anche per la concertazione e per l'esecuzione. E poi, visto che siamo un coro, parliamo del brano, delle caratteristiche di questa composizione di Olaghielo, di quali sono le connessioni che ci possono essere tra ciò che abbiamo detto qui, in questo spazio, e ci siamo, spero, appuntati, e ciò che poi andremo a cantare. Allora, Olaghielo. Olaghielo è un compositore norvegese, vi ho già detto che dovrebbe avere una quarantina d'anni, insomma, tra i 40 e i 50 anni, e nasce in Oslo, e la sua prima parte di attività è sicuramente molto influenzata dall'attività di suo papà, che è amante della musica jazz, un pianista amatore della musica jazz soprattutto, e trasferisce questa passione al figlio, che infatti si contraddistingue, prima di tutto, per essere un ottimo pianista. e subito inizio a scrivere musica, e nell'andare a cercare un po' di materiali rispetto alla figura di Olaghielo, un po' di interviste, un po' di contributi sul web, ho trovato numerose suggestioni, numerosi contributi, che penso di poter riassumere sotto una serie di parole chiave che vi presenterò qui. Le prime sono, senz'altro, quelle che vi ho già detto, il pianoforte, e se di jazz si parla, bisogna puntualizzare di quale jazz esattamente, perché Olaghielo scrive e racconta in più interviste di essere appassionatissimo della musica di Kay Jarrett. Kay Jarrett è quel importante musicista jazz che è diventato famoso per le sue lunghissime improvvisazioni in concerto. Esistono le registrazioni di alcuni di questi suoi concerti, ne ha fatto uno anche al Teatro Reggio tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, mi sembra, ma sono diventate famose le registrazioni del concerto fatto a Köln, a Colonia, quindi il Köln Concert o il Vienna Concert, dove ci sono due ore e mezza di improvvisazione veramente molto suggestiva. L'improvvisazione e il pianoforte di Khejarte sono uno degli spunti fondamentali. Per un musicista che inizia la sua attività in Norvegia scrive già un po' di musica corale, non solo musica pianistica o strumentale, anzi scrive un importante ubi caritas che è molto eseguito, molto famoso per chi canta in coro ed è molto eseguito a livello internazionale ed è una sorta di carta identità musicale con la quale lui si presenta anche negli Stati Uniti, dove approfondisce sia la Juilliard di New York che poi in un periodo successivo a Los Angeles, in California, anche il rapporto con la musica da film. E tutto sommato inizia a definirsi un suo stile compositivo che è molto incentrato sull'idea di scrivere musica per immagini. Anzi, lui dice più volte che per lui comporre è un po' come andare a completare una lavagna che parte inizialmente bianca e che spesso si fa influenzare dalle suggestioni che ha scritto o ha semplicemente improvvisato durante una sessione per andare a creare un mondo intorno a queste suggestioni. E qua si chiarisce poco per volta il suo stile compositivo che è abbastanza distante da quello che siamo abituati a riconoscere come anche insegnato nei principali conservatori europei e che di fatto è debitore della grande scuola viennese Aiden, Mozart, Beethoven. Per cui lo stile compositivo di Ola Ghielo è più un puzzle e viene fuori dall'improvvisazione rispetto a quello che vi stavo raccontando e cioè a un'idea per cui il compositore prima di tutto definisce la struttura dalla A alla Z del brano che compone. Cioè sa già come inizierà una composizione e come terminerà prima di scrivere ancora le note. è sicuramente un modo di scrivere strutturalista un'abitudine formalista che si è cristallizzata e si è definita nel corso dei secoli grazie soprattutto alla grande scuola compositiva tedesca principalmente quella ma non solo anche quelle italiane anche quella anglosassone e francese l'idea proprio di avere chiara la struttura prima di andare a mettere le note. Ola Ghielo non scrive musica così il suo modo di procedere è proprio più per improvvisazione per cui lui dice e racconta nelle interviste che si siede al pianoforte improvvise registrandosi e poi riascoltandosi prova a capire che cosa può nascere da quell'improvvisazione e va a sovraincidere altre idee altre semi-improvvisazioni che poco per volta costituiscono poi la sua forma musicale una cosa importante che secondo me bisogna ricordare di Ola Ghielo è non soltanto questo stile che l'ha reso abbastanza famoso e che comunque sia gli permette di creare dei brani formalmente compiuti ci mancherebbe però anche l'idea di una missione che secondo lui il compositore ha in numerose interviste lui dice I always wanted my music to be uplifting in some sense even if the music is sad or dramatic quindi l'idea che la musica sia edificante che la musica possa ritrarre le vicissitudini anche della vita quotidiana della vita umana la drammaticità che spesso vi si trova la tristezza, i conflitti ma che in qualche modo la musica li sappia risolvere affinché il pubblico che va a vedere i concerti sia ispirata e edificata da quello che poi la musica gli trasmette e come vi riportate in quest'ultima simpatica nuvoletta audience inspired and uplifted secondo me queste sono informazioni che ci bastano per andare a vedere più nel dettaglio il lavoro che Ola Ghielo fa con il testo che dicevo è tratto dal lavoro di Hildegarda von Bingen chi era Hildegarda von Bingen? Hildegarda di Bingen se vogliamo italianizzarlo è stata una figura importantissima del cristianesimo europeo medievale prima di San Francesco cioè tra il 1098 e il 1179 operante in tutta in Germania ma la sua dottrina si diffuse molto rapidamente e con notevole interesse anche presso altre comunità monastiche in tutta Europa nasce nobildonna e nasce laica e decide cioè non nasce all'interno di un monastero è proprio di alto ceto sociale e decide poi di dedicarsi alla vita clericale subito rendendo evidenti le sue grandi capacità di comando che anzi le crearono qualche conflitto con la parte maschile del clero dell'epoca ma anche una grande forma di rispetto perché aveva molti interessi che seppe mischiare con la sua spiritualità la sua idea di cristianesimo parlando di filosofia di poesia di drammaturgia scrisse anche dei testi ma si interessò anche di cosmologia di lingue fu una linguista naturalista e vedremo come la natura l'interesse per la natura è assolutamente fondamentale nel discorso che stiamo facendo questa sera e anche consigliere politico tant'è che come vi ho scritto venne invitata da molti vescovi a predicare delle cattedrali quindi è un auditorio maschile molti vescovi in tutta Europa una figura quindi estremamente significativa talmente significativa che è stata riconosciuta questa sua importanza soprattutto per la dottrina del cristianesimo recentemente nel 2012 è stata nominata e fa parte di un'enclave di 35 figure importanti del cristianesimo è stata nominata dottore della chiesa da Papa Ratzinger una delle poche donne nominate dottore della chiesa e evidentemente con un titolo quello di dottore della chiesa che dice quanto il suo apporto alla storia del cristianesimo europeo sia soprattutto dal punto di vista della dottrina parlavo della sua capacità di esercitare il potere del suo interesse esercitare il potere fu badessa nel monastero di Bamberg di Sibodenberg ma non 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 ci visse per molto tempo perché aveva interesse a creare una comunità monastica solo femminile e lo fece spostandosi a Bingen che è una città sul Reno da cui il nome il Degarda di Bingen una città sul Reno a Ruppersberg creando un'abbazia che divenne molto famosa che è quella che vi faccio vedere qui di cui oggi non resta traccia è stata poi edificata successivamente una chiesa un'abbazia in suo nome ahimè non c'è più traccia di questo in questo luogo meraviglioso che è la Germania del nord siamo ripeto a Ruppersberg non c'è più traccia di questo suo e di questa sua importante struttura ma ci dice molto il fatto che decise di creare una comunità monastica sul Reno cioè su una delle principali vie commerciali d'Europa forse una delle più importanti e questo la dice lunga sulla sua capacità non soltanto di scrivere di tutte le cose che vi ho detto ma anche di avere di sentire la necessità di praticare una vita monastica aperta comunque verso l'esterno la predicazione e il contatto il dialogo con la società continuo che è proprio la posizione geografica del luogo in cui scelse di vivere fino alla morte ci dicono molto chiaramente vi ho già detto scrivi di musica di poesia di cosmologia di filosofia di medicina di natura e anche di sessualità è una curiosità il Degarda von Bingen parli in alcuni suoi scritti del piacere femminile del piacere che la donna prova durante l'atto sessuale e anche di mestruazioni direi forse una delle prime a scriverne come donna vista anche la figura che rivestiva direi non una cosa banale delle tantissime cose che ha scritte io vorrei soffermarvi su due soffermarmi con voi su due da un lato questa sua capacità di avere una cultura così ampia da inventare una lingua artificiale le littere ignote che fanno parte di un trattato adesso non mi ricordo come si chiama ma una vera e propria lingua inventata un po' traslitterata dal latino che lei vedete ritratta qui che lei utilizzava inventò qualcosa come 1100 vocaboli in questa lingua inventata che lei utilizzava in due forme sia come un linguaggio segreto fra le monache e le sue compagne che anche come un modo per avvicinarsi al linguaggio di Dio usando un'altra lingua che evidentemente non è la lingua terrena non è la lingua di tutti i giorni e l'altra invece è la sua capacità compositiva e mi viene da dire quasi drammaturgica scrisse l'orto virtutum letteralmente la schiera delle virtù che è una sacra rappresentazione teatrale e musicale interamente scritta del suo pugno in cui rappresenta la schiera delle virtù che lei intende come importanti per la dottrina ed è una composizione che ancora oggi viene eseguita anzi mi piacerebbe seguirne con voi un piccolo estratto che trovate in questi video in primo luogo vorrei proprio ascoltare un estratto l'inizio dell'ordine delle schiere delle virtù questo dramma musicale sul web ci sono dei contributi interessanti e in questo caso andiamo a sentirne un estratto dove si vede anche lo spartito lo spartito che chiaramente è un tetragramma con i neumi soltanto non ci sono le note e in questa bella serie web che è peraltro dedicata alle donne compositrici e peraltro di questa stessa esecuzione si trova sul web anche il concerto per cui si può vedere come viene eseguito ascoltiamolo un pezzetto di questa stessa di questa stessa O Antibisanti, Criarmi amini nobis, Vepterum eiklasi pur homis Vepterum eiklasi pur homis Posso anche interrompere qua, vedete, si vedeva qua abbastanza chiaramente proprio come il canto seguiva i neumi. In questo episodio iniziale l'esecuzione è solo maschile, vedete sentita, è secondo la forma dell'organo, per cui una melodia cantata a un'altezza viene raddoppiata per scelta, non è scritto evidentemente, da un'altra voce alla quinta sotto. Creando quindi una sovrapposizione di due voci che proseguono per intervalli di quinta sempre, creando un effetto per noi oggi un po' estraniante, che fa tanto medioevo, ma che in realtà è una prassi anche per creare un tessuto di armonici importante. E ci torneremo su questa distinzione maschio-femmina, perché questa è la parte maschile che quindi ha degli armonici gravi che sono importanti da sentire, poi c'è un colpo di campana e il coro femminile che prosegue. Durante lo Zoom qualcuno di voi, mi sembra Laura, ha chiesto ma come mai cantata delle femmine? Era previsto che cantassero le femmine, il gregoriano non lo cantano i maschi e noi sappiamo che la musica, la donna che canta e la donna che fa attività artistica in generale era vietata, almeno fino al rinascimento, al barocco. Però evidentemente questa è una preghiera, sta tuonando, è nata all'interno di una comunità monastica femminile, quindi è logico pensare che le eseguano le donne. Una seconda parte interessante a mio parere è questa, il secondo brano che vi propongo, è Onobilissima Viriditas. Ve la propongo perché su Classroom io vi ho caricato questo spartito, come faccio a farvelo vedere? Eccolo qui, Item de Virginibus Onobilissima Viriditas, che trovate semplicemente perché mi faceva piacere poteste vedere com'è la trascrizione di una musica scritta con i neumi in notazione contemporanea, qua evidentemente con 5 righi. No, per cui, lo trovate sul, questo è proprio Nobilissima Viriditas di Hildegard von Bing, lo trovate su Classroom se lo volete guardare, e qua lo ascoltiamo in una bella esecuzione. Ecco, si diceva la parte maschile e poi la parte femminile. Sentite di questo brano, visto che ci parla di Viriditas, che è l'ultimo concetto che voglio sviluppare con voi, come è flessuoso, come è ornamentale, come è ornamentale quasi in senso disprecettivo, quindi non mi piace usarlo come aggettivo, ma è com'è davvero floreale il flusso melodico di questa esecuzione e di questa musica di Hildegard von Wiggen. Grazie a tutti. 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 vicina al naturalismo, tant'è che secoli più tardi queste serie di immagini di Hildegard von Bingen sono state utilizzate anche molto per la mistica, d'altronde le sue opere sono proprio considerate i prodromi della mistica tedesca, di una mistica nordica, dove questa comunione con la natura è molto presente. D'altronde se voi digitate viriditas sul web non vi vengono per prime le definizioni che riguardano la dottrina di Hildegard von Bingen, ma invece gruppi spirituali, gruppi di naturalisti hippie piuttosto che non fantomatiche comunità di preghiera nella natura o di situazioni di questo tipo, insomma anche video lezioni che raccontano come bisogna essere dal punto di vista bisogna essere legati alla natura anche con i sensi, insomma. Quindi tutto un aspetto che è stato senz'altro molto sviluppato dalla mistica, ripeto dei paresi anglosassoni, che forse non era nella sua idea originaria, ma che a noi tornerà molto utile per la concertazione. Un ultimo concetto che è legato ancora a cose che ci siamo già detti è la sua idea della differenziazione fra maschio e femmina, uomo-donna, che entrambi vivono e palpitano di queste viriditas. Entrambi, l'uomo e la donna, sono chiaramente la manifestazione di Dio in terra, ma mentre l'uomo è la manifestazione della divinità di Dio padre, la donna è la manifestazione dell'umanità di Gesù e entrambi devono convivere, sono entrambi rappresentati della viriditas, ma devono convivere all'interno di una idea generale cristiana che il De Garda seppe diffondere con grande successo anche all'interno, come vi dicevo, dei monasteri quando andava a predicare. Questo aspetto, questo concetto è per me interessante perché secondo me ci permette come corale universitaria, al di là di avere delle suggestioni di concertazione, di ritornare a un vecchio progetto che io avevo legato alla figura della Vergine e basato su una poesia che mi piacque molto e che conteneva la frase tu sei la pianta. Tu sei la pianta sono le parole che dice l'angelo durante l'annunciazione in una poesia di Rainer Maria Rilke, non a caso un poeta tedesco, non a caso il testo di Hildegard von Bingen è musicato da un musicista norvegese. Secondo me ci sono delle assonanze, delle ridondanze interessanti all'interno, quando si poi si fa un po' di analisi delle repertorie. Questo testo a me piacque tantissimo e ci diede l'occasione nel fine degli anni 90 di fare qualche concerto sacro con musiche davvero più che altro rinascimentali ma non solo, che raccontavano la figura della Vergine ed erano intervallate da delle letture molto tratte dai testi di Rilke ma la principale era la poesia annunciazione e secondo me è opportuno che vi lega qualche estratto che vi ho riportato qui. Dice l'angelo tu non sei più vicina a Dio di noi, siamo lontani tutti, ma tu hai stupende benedette le mani, nascono chiare a te dal manto luminoso contorno, io sono la rugiada, il giorno, ma tu sei la pianta. Già l'idea che le mani nascano dal contorno del manto è già un'idea di germoglio molto interessante e poi la dichiarazione, tu sei la pianta, io sarò anche con lei che la benefica con la sua rugiada, che la nutre, ma tu sei radicata a terra e germogli e germoglierai. Ho steso ora le ali, sono nella casa modesta, immenso, l'angelo, evidentemente la maestosità della incarnazione della divinità, uomo, quasi manca lo spazio alla mia grande veste, pur non mai fossi tanto sola, vedi appena mi senti, nel bosco io sono un mite vento, ma tu, tu sei la pianta, tu che il mio canto intendi sola, in te si perde la mia parola come nella foresta. Di nuovo immagini naturalistiche, di nuovo la foresta, il vento, la pianta raccontata più volte, con questa differenziazione fra maschio e femmina, d'altronde l'idea che la vergine sia qualcosa di piccolo e che per questo possa germogliare, è legato a un'altra definizione che il De Garabonding dava anche di se stessa, come paupercula forma, come piccola cosa rispetto alla grandiosità del divino. Vi pregherei di tenere queste informazioni come spunti per quello che andremo a vedere direttamente sulla partitura nel prossimo video. Grazie. Grazie.